Benissimo, gentili ospiti, eccoci qui. Anche noi andiamo in modalità online-offline. Il prossimo ospite non sarà qui fisicamente con noi, un ospite come quelli che lo hanno preceduto davvero d'eccezione. Abbiamo la grande opportunità di entrare, anche se virtualmente, nella casa privata, non privata, di lavoro, di un medico che in queste settimane davvero ha salvato delle vite, un medico che era in prima linea, un medico che ha visto davvero, ha toccato quelle emozioni personali di parenti, di persone coinvolte, insomma ha toccato cose, ha vissuto, ha respirato un'area che noi non abbiamo respirato. Allora io vorrei innanzitutto, e fra poco lo saluterò, capire con lui quali sono le situazioni che ci attendono in ottica di opportunità, di cambio di atteggiamento, di attitudine, per cercare di guardare avanti e non più fermarci magari a quelle situazioni che, per fortuna, riguardano il passato. Allora io accolgo e do un caloroso benvenuto al dottor Enos Bernasconi, che non è qui con noi fisicamente ma è in videoconferenza, viceprimario di medicina interna e del servizio di malattie infettive presso l'ospedale regionale di Lugano. Dottor Bernasconi, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Spero che l'audio sia buono, perché lo faccio senza cuffie, dato che oggi la prova l'ho fatta senza cuffie. Si sente bene? In sala la sentiamo davvero in modo molto pulito, come fosse qui. Quindi noi ci stacchiamo dalla multimedialità, è come se fosse qui con me, qui con noi, pronti per questi 15 minuti di conversazioni. Io cercherò di pungolare, mi raccomando da casa, se avete domande formulatele, mi raccomando sintetici perché non abbiamo il tempo di leggere domande troppo estese. Il numero WhatsApp lo vedete sempre in sovra sul monitor. Quindi dottore io le chiedo anche a lei, tra l'altro viene da una riunione molto importante, non le chiedo cosa avete deciso ovviamente, ma le chiedo una sua fotografia a livello personale, prima che professionale, in 60 secondi di quello che ha vissuto all'interno degli ospedali, da un punto di vista emotivo, cosa si sente di trasmettere alle persone che sono a casa per come fosse un brodo caldo per l'anima, proprio per rasserenarle che stiamo andando verso un aspetto positivo di questo fenomeno. Direi veramente, per me è stata una grandissima emozione lavorare negli ultimi due mesi negli ospedali. Ho lavorato in più ospedali, quindi nel mio ospedale, l'ospedale regionale di Lugano, in cui avevamo comunque un reparto in cui accoglievamo transitorialmente pazienti Covid, e poi ho lavorato anche in parte a Locarno, proprio l'ospedale dedicato. E questa esperienza professionale è sicuramente unica. Negli anni 80 ho incontrato l'epidemia di HIV AIDS, e ora, non molto lontano dalla fine del mio percorso professionale, ho questa opportunità, perché è veramente un'opportunità, grandissima esperienza, bagno dell'anima, sono emozioni molto varie, ci sono emozioni anche purtroppo con sofferenza, comunque direi, dal mio punto di vista, soprattutto adesso in questa fase un po' di rientro dell'epidemia, sono veramente ancora molto motivato dopo aver trascorso questi due mesi di lavoro intensissimo. Ci sono molte persone che prima di questo fenomeno, prima che scoppiasse, ritenevano il tema dei vaccini un tema di pura propaganda politica, un pretesto per fare discussioni, per porre degli interrogativi che poi non erano interrogativi, erano pura e mera polemica. Allora le chiedo, dal suo osservatorio estremamente privilegiato e altamente scientifico, com'è cambiata questa attitudine delle persone? Lei ha visto un atteggiamento molto più sensibile, interessato, almeno ad avvicinarsi a capire che è importante in un qualche modo avvicinarsi a questo tipo di soluzioni per la salvaguardia non tanto nostra, ma delle persone che ci stanno vicine. Io ripeto sempre la metafora della catena, siamo tutti un po' interconnessi e il comportamento di uno contamina in positivo o in negativo gli anelli che ci stanno ai lati. Quindi lei cosa ne pensa? Ha visto un cambio di atteggiamento dal suo osservatorio interno privilegiato? Posso dire che per il momento non ho ancora visto un chiaro cambiamento dell'atteggiamento nel confronto dei vaccini che restano importantissimi, tipicamente quello del morbillo, anzi si segnala purtroppo ancora in molti paesi un po' una diminuzione della copertura vaccinale. Quindi per i vaccini in generale forse non è ancora scoppiato entusiasmo, però bisogna anche dire che ho sentito molte più persone chiedere quando arriva il vaccino per questo Covid. ossia, malgrado tutto, c'è un'aspettativa che il vaccino potrebbe essere una soluzione. Molte persone percepiscono i vaccini come qualcosa di indispensabile solo per i problemi molto gravi o percepiti come più gravi di altri. Sicuramente il Covid è percepito come un problema grave e quindi c'è un'attesa, c'è un'aspettativa e penso che ci sarà molto lavoro da fare per far capire che sì, lo sviluppo di un vaccino per il Covid è importantissimo, ci si sta lavorando, sono stati fatti i primi test anche nell'uomo con i primi candidati vaccini, forse fra un anno disporremo del primo vaccino, però i vaccini tradizionali, quelli in cui il Rotary in fondo si può dire fieramente promuove come il vaccino della poliomielite, il vaccino del morbillo restano fondamentali. Mettendo in relazione l'importanza di avere un vaccino presto o tardi e la gravità, la complessità di questo virus che ha toccato tutti e potrebbe in futuro ancora toccare tutti dal suo punto di vista personale, proprio personale, che sicuramente poi si riallaccia alle esperienze professionali che lei sta vivendo anche come medico, e virologo. Come ci si prepara se potessimo tornare indietro a gestire un'emergenza di questo tipo, proprio a livello personale singolo, mettendo in relazione a due elementi che non sono conosciuti e che potrebbero anche continuare a non essere conosciuti? Credo che giustamente è stato detto molto bene prima, diciamo, la preparazione personale è sicuramente importante, ovvero cosa può essere la preparazione personale? È sicuramente informarsi costantemente, oramai ci sono decine, arriviamo addirittura centinaia di nuove pubblicazioni al giorno, quindi fare la selezione di tutto quello che esce di scientifico, di importante, condividerlo con i propri colleghi, con i propri, diciamo, sia con gli altri specialisti, lo facciamo a livello svizzero, ma anche con i propri colleghi a livello locale, per, diciamo, dare degli input e ricevere degli input, quindi, in fondo, la scienza prima di tutto, direi, dobbiamo effettivamente continuare a capire meglio cos'è questo virus, come si comporta, come si diffonde e quali sono i potenziali strumenti che abbiamo per contrastarlo, diciamo, al di là di quello che sono le misure di prevenzione classiche, la distanza fisica, l'igiene, però abbiamo effettivamente come specialisti la necessità di capire se ci sono delle terapie che possiamo usare e, probabilmente l'avete sentito nei media, ci sono dei farmaci che sono proposti, ma purtroppo la maggioranza di farmaci che sono stati usati finora non sembrano particolarmente efficaci, salvo un farmaco che stiamo usando nell'ambito di un grande studio clinico internazionale che, diciamo, viene, questo farmaco viene usato anche allo studio di Locarno, ecco che qui cominciamo a vedere, abbiamo l'impressione di vedere dei successi di questa terapia, quindi abbiamo perlomeno un antivirale che sembra agire adeguatamente, quindi, in fondo, concentrarsi su quello che facciamo, cercare di studiare anche quello che facciamo e imparare dagli altri, dalle esperienze, anche a livello dell'ente, sono stati proposti molti studi clinici che credo avranno il loro contributo anche a tutto quello che viene fatto a livello internazionale che è stato fatto finora, quindi la scienza, la ricerca sono fondamentali nell'affrontare questa malattia e come sapete purtroppo ci sono delle persone anche addirittura dei capi di Stato che con delle diciamo delle affermazioni assolutamente incongrue desicurizzano le persone e quindi penso il compito dei medici è quello di portare dei messaggi chiari che hanno un fondamento scientifico dire chiaramente dove il fondamento scientifico è ancora debole perché non sappiamo ovviamente non sappiamo ancora tutto e comunque cercare anche di dare ha detto dare una nota positiva quindi cercare di dire le cose sempre con un do maggiore anche quando può essere difficile lei ha parlato di ricerca di scienza ma sono due contesti che in questo periodo soffrono e accusano il colpo delle fake news delle notizie false pesantemente quindi sembra che la regola sia dividi ed impera più c'è il caos e più le persone per un senso di appagamento emotivo vadano a credere tutto ciò che passa dal loro schermo o per il passaparola seppur mediato dalle nuove tecnologie allora io le chiedo qual è il suo consiglio il suo suggerimento da esperto da professionista da medico dalla massima autorità medica da virologo che lavora e tocca con mano questo problema qual è il suo suggerimento alle persone comuni quindi io le chiedo uno sforzo di dillo con parole semplici se mi passa l'espressione per aiutare le persone a capire a muoversi un po' in tutte queste notizie false quali sono i luoghi che devono andare a visitare prima di prendere per vero ciò che leggono ciò che ricevono per whatsapp trovo che questo sia un elemento molto importante soprattutto oggi da oggi in poi il momento in cui c'è questa parvenza di riapertura quindi c'è questa fiducia che ci viene concessa dall'alto di cui dobbiamo fare molto tesoro qual è il suo suggerimento proprio in parole semplici che la persona comuna possa dire ho capito prima se sento parlare di coronavirus vado a visitare questo sito piuttosto mando un'email a quest'altro sito ecco c'è la possibilità di farlo? è un'ottima domanda io direi forse qualcosa che può suonare un po' non so se di parte o magari anche detto più volte trito di trito che noi abbiamo una grande fortuna in Ticino in Svizzera abbiamo delle autorità che diciamo lavorano non lavorano diciamo in modo totalmente autonomo senza mettendo anche diciamo facendo affermazioni totalmente infondate ma ascoltano gli esperti ci sono molti gruppi esperti che lavorano a fianco dell'autorità e questo vi ho la fortuna di lavorare in una diciamo una cellula di crisi cantonale quindi so che questi gruppi che danno raccomandazioni all'autorità lavorano diciamo in modo scientifico approfondiscono i temi si discute tra di noi si sentono le opinioni degli altri e alla fine si dà una raccomandazione che ha una base direi solida e quindi questa la portiamo all'autorità e l'autorità segue queste raccomandazioni ovvero diciamo è molto attenta a quello che a quello che è il lavoro in fondo nel background a quello che è il lavoro degli esperti quindi in fondo bisogna il consiglio principale è date fiducia continuate a dare fiducia all'autorità non siamo negli Stati Uniti non siamo in paesi diciamo in cui le autorità sono estremamente rigide come può essere la Cina no noi abbiamo una grande fortuna abbiamo un paese con una solida democrazia ma anche con un'autorità che ascolta ascolta gli esperti ascolta la scienza e quindi cerca di dare consigli migliori chiaramente anche gli esperti anche le autorità possono sbagliare non ci sono delle certezze assolute oggi che si possono diciamo portare all'attenzione del pubblico in modo diciamo senza lasciare alcun dubbio ossia bisogna cercare di dare messaggi comunque propositivi positivi ma che diano un indirizzo e che siano basati il più possibile sulle conoscenze scientifiche andare su siti internet gli unici siti che si possono oggettivamente raccomandare sono quelle o delle società professionali che contengono spesso anche delle informazioni che sono diffuse proprio per il pubblico non di esperti pensiamo all'organizzazione mondiale della sanità pensiamo al sito dell'European CDC cioè il sito del centro di controllo dell'infezione europeo e naturalmente il sito dell'ufficio federale di sanità questi forse sono i siti che uno può visitare e scegliere i documenti che riesce a leggere con più facilità e che hanno informazioni affidabili perché sono diciamo sono presentate da degli esperti la ringrazio dottore per queste sue semplici non voglio banalizzare ma davvero ho apprezzato lo sforzo per cercare di far arrivare il messaggio alle persone meno preparate anche con le nuove tecnologie allora le chiedo nel mondo prima del coronavirus ma parliamo nel mondo molto molto prima del coronavirus la politica per decidere guardava alla finanza e all'economia poi con l'arrivo dei grossi oligopogli tecnologici Google Facebook Amazon la politica guardava a questi colossi perché c'erano i dati che oggi valgono più del denaro dopo il coronavirus sembra che alla politica per decidere guardi alla medicina alla scienza alla ricerca ai professionisti della salute allora le chiedo qual è il suo punto di vista pensa che questa sia una tendenza un'eccezione che diventerà una regola oppure ritorneremo a guardare i dati tecnologici di Google Facebook per prendere decisioni magari con l'intelligenza artificiale qual è il suo punto di vista in questo cambiamento in questo passaggio di testimone decisionale diciamo che anche l'intelligenza artificiale può fornire dei dati e delle informazioni estremamente estremamente importante io spero che l'esperienza acquisita in questi pochi mesi di grande crisi a livello mondiale di crisi sanitaria che per fortuna vediamo giustamente vediamo un lento ma chiaro miglioramento non solo le nostre attitudini ma nella maggioranza degli altri paesi fortemente colpiti penso che questo lascerà degli insegnamenti sono convinto che si ascolteranno di più le autorità sanitarie però giustamente dovremo anche vedere quali sono le conseguenze di tutto quello che è stato fatto per proteggere la popolazione per la salute quali sono le conseguenze che sono inevitabili a livello economico e quindi bisogna trovare penso il giusto dialogo tra sanità e economia cioè bisogna anche evitare di muoversi troppo rigidamente sul binario sanitario soprattutto adesso che siamo in una fase in cui possiamo cominciare a ragionare su delle aperture e su come monitorare quello che succede al momento dell'apertura io penso l'economia è giusto che dia i suoi input anche che spinga a che si possa fare dei passi di apertura progressivi da parte della sanità è molto importante che si trovino delle strategie per monitorare tutto quello che accade e adesso uso magari un'espressione un po' tecnica ma se ne parla tanto nei giornali una delle idee attualmente che è stata diffusa anche da autorità federale successivamente da quella cantonale e di dire adesso abbiamo in fondo mitigato l'epidemia quindi abbiamo evitato il sovraccarico delle strutture sanitarie ci siamo andati molto vicino a un sovraccarico estremo ma abbiamo saputo gestire bene l'epidemia finora grazie a un'ottima organizzazione degli ospedali e delle cliniche private adesso dobbiamo cercare di contenere quindi dobbiamo usare delle strategie probabilmente di andare veramente a cercare tutti i nuovi focolai e a spegnerli il più rapidamente possibile quindi faremo sicuramente ancora più test di quelli che sono stati fatti fino ad ora per identificare nuovi casi e cercheremo di isolare il più precocemente possibile le persone potenzialmente contagiose e speriamo che in questo modo l'epidemia verrà tenuta su basso livello dubito che andremo completamente a zero ma verrà tenuta su un basso livello e cerchiamo soprattutto di evitare che riprenda troppo rapidamente intensità questo penso che è l'obiettivo più importante nei prossimi mesi fino a che avremo un medicamento veramente efficace e ci contiamo ancora o fino a che avremo un vaccino che forse porterà una soluzione nel lungo termine ringrazio dottore un'ultimissima domanda a cui io tengo molto sicuramente questa esperienza da un punto di vista personale avrà segnato anche lei allora le chiedo c'è qualcuno che vorrebbe ringraziare in modo particolare un collaboratore una persona un'entità da un punto di vista personale rispetto alla situazione che lei è stato chiamato a vivere e a condurre io credo che è importante ringraziare tutti se io ringraziassi qualcuno in particolare ne avrei tante di persone che vorrei ringraziare anche in modo specifico e particolare ma farei un torto a qualcuno l'altro giorno scendendo con il lift in ospedale ho incontrato delle persone dell'economia domestica e mi sono reso conto me ne ero già reso conto ma mi sono reso conto un'altra volta com'è importante ad esempio in questa fase il loro lavoro perché se non avessimo un personale di economia domestica molto efficiente rapido nel disinfettare i locali dopo che sono stati usati da una persona contaminata e quindi contagiosa avremmo sicuramente avuto delle situazioni di impasse delle situazioni in cui in fondo non avremmo potuto facilmente gestire il volume di pazienti che arrivavano nei reparti quindi dai super professionisti fino a tutto il personale tecnico dell'economia domestica e altro sono tutti da ringraziare direi quindi in prima linea il personale che ha lavorato e che lavora negli ospedali quindi nel mio ospedale d'origine l'ospedale regionale di Lugano a cui tengo contissimo ma anche all'ospedale regionale di Locarno dove l'organizzazione che ha permesso di gestire il picco dell'epidemia Covid era veramente fantastica e infine vorrei ringraziare tutti i miei diciamo i miei colleghi nei vari gruppi di lavoro cellule di crisi gruppi di esperti a livello nazionale perché senza di loro mi sentire abbandonato ovvero è importante potersi costantemente regolarmente confrontare con diciamo i propri amici e colleghi poi un nome lo voglio fare perché all'inizio dell'epidemia il professore Loren Caiseo di Ginevra mi chiamava quasi giornalmente dato che a Ginevra l'epidemia non era ancora arrivata con l'intensità del Ticino lui vedeva quello che stava succedendo in Ticino e si preoccupava e mi mostrava costantemente la sua vicinanza chiamandomi quasi giornalmente e dandomi consigli estremamente utili quindi avere un super esperto come lui al fianco è stato sicuramente una cosa importantissima anche un'esperienza incredibile grazie mille dottor Bernasconi per essere stato con noi per aver condiviso il suo prezioso tempo veniva da una riunione importante il suo tempo è scandito con riunioni molto importanti che impattano sulla nostra salute quindi il grazie è duplice ma soprattutto grazie per tutto quanto sta facendo per noi mi raccomando continui a farlo perché è molto importante io la ringrazio anche se sono ripetitivo ma è molto importante perché non è semplice trattare un argomento in così poco tempo così complesso con tante sfumature quindi grazie di nuovo anche a lei auguro una buona continuazione di serata e continui a seguirci anche se mediato dalle nuove tecnologie grazie mille dottor Bernasconi e arrivederci grazie a lei a tutti i colleghi e a tutti i membri del Rotary Club un'organizzazione molto importante grazie grazie a tutti i membri